Ciao a tutti ragazzi! Oggi vi presentiamo un nuovo gioco che è molto famoso qui in America, ovvero Spotit! Questo è carino, non è bufo, non è che fa proprio ridere, insomma, però comunque è un gioco famoso e quindi volevamo mostrarvelo. Tra l'altro Paola, sai, ho visto giusto l'altro giorno un post su Facebook che mi sembra che in qualche modo questo gioco sia arrivato anche in Italia, ma sotto un altro nome che ora non ricordo. Allora sbrighiamoci a farlo vedere! E confermateci se più o meno esiste anche in Italia. Ora vi spiegheremo come funziona. Apriamo la scatola! È tutta una serie di cartine di forma rotonda, queste sono le istruzioni, ecco le carte, ok, mostriamole ai nostri amici. Questa è una delle tante carte. Allora, come potete vedere, queste carte mostrano una serie di disegni, di immagini e parole. Ora non mi ricordo quante immagini sono in tutto, saranno più di una decina, non lo so, va bene. Comunque si ripetono tra di loro e la caratteristica è che ogni carta ha delle immagini diverse, ma solamente una uguale a un'altra. In pratica, come potete vedere, questa ha questi disegnini, questa ce n'è altri, però tra le due ce n'è almeno una in comune. Per esempio la scritta stop. In questo caso la scritta stop, esatto. Prendiamo ad esempio altre due carte. Vai Paola! Queste due, c'è il quadrifoglio che hanno un comune. Esatto, di nuovo, queste altre due. Queste due totalmente a caso. E l'ok. C'è la scritta ok che è uguale in entrambe. Quindi lo scopo è questo. Io e Paola prenderemo delle carte a mano a mano e ne lasciamo una qui sul tavolo. E dobbiamo essere veloci a vedere qual è il simbolo che abbiamo in comune con la carta che sta qui. E chi prende più carte vince, lo so, non ce sa capire niente. Adesso ve lo mostreremo in pratica, perché altrimenti non lo riesco a spiegare. Ce la faccio? Vai Paola! Allora, Paola ha mischiato le carte. Ora mettiamo questa carta iniziale sul tavolo e poi sia io che lei ne prendiamo una. Ora, io controllo, lei controlla. La prima delle due che riesce sulla propria carta a vedere quale simbolo ha in comune, si prende la carta. Io so scavallo, quindi prendendo la carta. Ma io so a far video, ancora non ho guardato, però vabbè. Vabbè, per esempio no. Sì, ok. Sì, io la giochialità ovviamente la prendo. Ah, e me la prendo io, sì. E vai avanti. E andiamo avanti. Poi dai, adesso giochiamo un po' sul serio, dai. Io, fornaggio. Omino. C'è l'omino giallo, vedete? Arancione. Vabbè, arancione, eccolo. Vai. Iglu. In questo caso, se Paola fosse stata più veloce, avrebbe avuto in comune che cosa? Non l'iglu come me, ma la chiave. Vedete, lei aveva la chiave e a me invece era capitato l'iglu. Facciamo ancora di nuovo un altro esempio. Albero. Paola aveva l'albero. E tu il quadrifoglio. Vedete? L'unico elemento in comune con questa carta e invece nel mio caso avevo il quadrifoglio. Adesso giochiamo sul serio, Paola. Non mi far fare brutta figura. Allora, mamma, dobbiamo essere veloci? Eh, veloci, tanto perché dovete sapere che lei questo gioco l'ha conosciuto a scuola, non quest'anno, ma l'hanno passato, in seconda media. Quindi lei comunque se ci gioca anche a scuola. È ovvio che io sia più lenta di te. No, io ci ho giocato soltanto una volta quest'anno, l'anno scorso tante volte. E io zero. Va bene, dai. Vediamo come va questa partita. Cerchiamo di mettere le carte un po' vicine ai nostri amici, più o meno. Facciamo una partita per fare due risate, eh? Ma si vede? No. Ok, va bene. Pronta? Pronto. Vado. Pronta. Vai. Giro. Che fantastico. Chiave. Ok. Forbici. Perché già non vedo niente? Forbici. Ragnateva. Drago. Poi ogni tanto vi addormenterete quando non troverete nulla. Vai. Orola. Poi succederà questo. Albero. C'era la candela, ma l'ho vista troppo tardi. Drago. Perché sembra stupido, ma non le riesci a vedere subito le immagini. Cioè, stai lì che ti si incrociano gli occhi. Vai. Sembra semplice, ma non lo è. Vela. Ragnateva. L'ho detto prima io. Non dovete essere troppo competitivi con i vostri figli quando giocate insieme, capito? Invece sì. L'orologio. Credo che ormai dallo spessore del mio mazzo di carte abbia vinto Paola. Ma io che c'avevo, scusa, me la fai guardare? Che poi ti viene il dubbio che dicevo... Ecco, c'avevo il fantasma. E non lo vedevo. Vi rendete conto? E' il fantasma. Giustamente. Ecco qui. Come potete vedere, da questa sensibile differenza... Mia madre ha perso. Ecco. E niente, speriamo che vi sia piaciuto questo gioco. Nel caso decidiate di comprarlo anche voi. Perché fai non è stavolta. Mi auguro, insomma, che la società che lo produca ci dia qualche profigione, qualche percentuale, insomma, perché abbiamo fatto pubblicità a questa cosa. Ma fino adesso ancora non ci conosce nessuno. Quindi ci auguriamo che presto, non so se succederà qualcosa. Basta. Ok. Ciao a tutti ragazzi. Speriamo che vi sia piaciuta questa nuova curiosità. Ciao ragazzi.